La Giunta Municipale di Battipaglia ha approvato il progetto Nonno Vigile, rivolto ai pensionati aventi un'età compresa fra i 55 e i 75 anni. Le persone che faranno richiesta svolgeranno un servizio civico, volontario e gratuito nei pressi delle scuole durante gli orari di entrata ed uscita, fornendo un supporto alla polizia locale. Un requisito preferenziale sarà rappresentato dall'aver prestato servizio in passato nei corpi di polizia.